Le piace questo vestito, signora? Sì, mi piace molto il colore. È un vestito molto carino, ma mi sta troppo piccolo. E questo? È molto bello. È assai di moda. Le minigonne adesso sono di moda. Non la vuole provare? Bene, purtroppo anche questo vestito verde mi sta troppo piccolo. È ancora più piccolo di quello blu. Non mi piace neanche il colore. Non mi sta affatto bene. Penso che il vestito blu sia più bello. Potete farmi vedere un altro vestito blu? Voglio un vestito come quello, ma deve essere della mia taglia. Purtroppo non ho un vestito più grande di questo. Questo è il vestito più grande del negozio.